Puoi anche essere Dio. A loro non interessa. Loro ora sono... Se tu potessi essere ubriaco, totalmente intossicato e pienamente consapevole, sarebbe una cosa favolosa. La tua ricerca può essere grandiosa. Ma a meno che tu non faccia le cose giuste, le cose giuste non ti succederanno. Dunque, questa faccenda degli anni Sessanta, la bellezza di questo, è che una generazione intera, o perlomeno una parte, ha realizzato che nella società esistente qui, non importa di cosa parlassero, non sapevano nulla. Gente stupida che parlava di ogni tipo di assurdità con grande convinzione. Non solo riguardo al mondo, riguardo all'altro mondo e al paradiso e alla gerarchia nei cieli. Parlavano di ogni cosa, ma non sapevano un accidente. Qualsiasi gerarchia venga creata nella mente di qualcuno fin dall'infanzia, questo è il bello delle sostanze intossicanti, loro quando si sballano non gliene frega niente se sei un padre, se sei un prete, se sei qualcosa, sei Dio, non gliene frega niente. Ora sono sballati. Questa è la parte bella. E la gerarchia crolla, ma il problema è anche che la consapevolezza crolla. Questa è la parte più brutta. Se tu potessi essere ubriaco, totalmente intossicato e pienamente consapevole, sarebbe una cosa favolosa. Per questo scegliamo lo yoga. Perché puoi essere totalmente ubriaco. Guardami negli occhi. Sono sballato tutto il tempo. Ma abbastanza consapevole per questo mondo e questo dopo. Quindi questa era la bellezza degli anni 60 e la parte brutta è inconsapevole. Diventarono animali dopo un periodo di tempo. Pensavano che con questo cercare sarebbero andati al di là di dove questa assursità conservatrice stava andando. Dove devi metterti un cappio al collo anche per stare seduto o in piedi. Se mangi, devi mangiare così. Se stai in piedi, devi stare in piedi così. Stava diventando così terribilmente restrittivo. Che volevano liberarsi di tutto. E quella ricerca sembrava bellissima. Ma persero la consapevolezza e annasparono. Non sapevano da che parte guardare. Ovunque guardassero, erano solo ingannati. O venivano ingannati perché erano inconsapevoli. Ad ogni modo, non aveva funzionato. Ma comunque, c'è una certa bellezza in questo. Almeno qualcuno ha cercato. Sì. Hai fallito. Non è questo il punto. Almeno hai cercato. È una cosa buona. Quindi erano come bambini che non sapevano niente. Ma avevano un desiderio. Avevano il desiderio di cercare qualcosa che non è alla loro portata. Quando qualcuno desidera conoscere, quando qualcuno sta cercando, sinceramente cercando, c'è una certa bellezza in quell'atmosfera. Perché almeno le persone stanno ammettendo non sappiamo un accidente. Il che è bello. Ogni volta che un essere umano non sa, diventa gentile e stupendo. L'hai notato? Vedi, stai guidando il tuo fuoristrada. Così. No, non così. Voi guidate a sinistra. Ok, così. All'improvviso, non sai dove stai andando. Ti sei perso. Allora, quando scendi per chiedere a qualcuno, non sai da che parte andare. All'improvviso, sei un bravo ragazzo. Perché quando non sai, quando realizzi, non lo so, sei una creatura gentile. Per favore, osserva questo. Quando pensi di sapere, puoi essere cattivo senza motivo. Non è vero? Sì? Quindi, questa è la cosa buona degli anni Sessanta. Ma il risultato non è stato decisamente buono. Perché le tue intenzioni possono essere grandiose. La tua ricerca può essere grandiosa. Ma a meno che tu non faccia le cose giuste, le cose giuste non ti succederanno. Penso, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, a meno che tu non faccia le cose giuste, le cose giuste non ti succederanno. A meno che tu non faccia le cose giuste,